www.redigio.it e la storia continua Nella storia per un giorno Il vero re-enactor Si deve tenere presente innanzitutto che i rievocatori o re-enactors sono appassionati di storia, attratti inizialmente magari dal fascino del combattimento marziale o da un interesse personale per la storia del luogo in cui vivono La passione porta poi ad approfondire altri argomenti tanto che il vero re-enactor è disposto a visitare musei più sperduti cercare nelle biblioteche più polverose seguire corsi universitari con un occhio e un orecchio attento a ogni traccia che possa illuminare gli angoli più nebbiosi del proprio personalissimo ambito di ricerca Gli autentici rievocatori affermano che questa attività rende liberi e consente di trasmettere valori veri In effetti il vero rievocatore desidera conoscere ogni aspetto della realtà che intende riproporre perché il suo fine è proprio quello dell'aderenza storica e della coerenza antropologica per comprendere e far comprendere quale potessero essere il livello e lo stile di vita delle persone del passato Non ultimo il rapporto diretto con gli altri appassionati e con il pubblico È una modalità certamente affascinante ricca di possibilità, di ingegno ed inventiva nel senso buono del termine non nell'inventarsi cose che non esistevano nella realtà del passato quanto di reimmaginare partendo da dati accertati e scientificamente dall'archeologia o dalla documentazione esistente le soluzioni che erano disponibili nella consuetudine della vita del passato E come in un gioco enigmistico ben riuscito quando la soluzione trovata corrisponde a tutti i dati di ricerca può consentire di fare scoperte illuminanti che gettono vera luce sul nostro passato tanto che lo stesso mondo accademico talvolta ne ammette la plausibilità E la libertà del giocatore Leggermente diversi, ma forse non così tanto i partecipanti ai cosiddetti giochi di ruolo che oltre che ispirarsi a una realtà storica possono liberamente usare la fantasia per integrare le caratteristiche del personaggio che intendono rappresentare Tuttavia la fantasia può distorcere la realtà storica a piacere mentre ciò non è dato nella rievocazione vera e propria che è in questo senso molto più vicina alla scienza e non si concede di svagazioni e contaminazioni arbitrarie Un esempio è dato dalla differenza nei materiali scelti per il combattimento nei giochi di ruolo dal vivo proprio perché si tratta di un gioco dove tutto è permesso Le regole devono essere ferree soprattutto quelle sulla sicurezza Ecco quindi che le armi utilizzate devono garantire che nessuno si faccia male e recentemente sono state introdotte armi in lattice belle da vedere ma totalmente inoffensive e senza il rumore tipico delle armi metalliche Nel combattimento dei rievocatori invece le armi cercano di essere vicine almeno per peso e forma a quelle antiche Ciò ha consentito nel tempo di comprendere meglio e sviluppare pienamente le qualità delle protezioni di difesa Nel passato infatti un guerriero con un braccio rotto era sufficiente per essere un guerriero morto e ciò consente di apprezzare la rapida evoluzione delle armature e delle relative imbotiture sottostanti Nel corso del Medioevo via via che si complicavano e si specializzavano le armi da offesa Più veri del vero Purtroppo svolgere vera attività filologica richiede competenze e culture che non si possono improvvisare e se nell'ambito dei gruppi di rievocatori ciò costituisce quasi un secondo lavoro è quasi certamente la passione principale per lunghi anni di attività Ciò non è dato spesso per gli organizzatori e i partecipanti di moltissime feste e sagre a tema medievale o rinascimentale che si svolgono nella nostra bella Italia In certi casi i figuranti vestono abiti di ispirazione storica spesso senza operare un'attenzione particolare al periodo scelto combinando senza scrupolo abiti e oggetti d'uso pertinenti a luoghi anche molto distanti tra loro o, peggio ancora, a secoli diversi E sarebbe ora di dire basta alle scarpe di ginnastica coperte da sacchi di aiuta per evocare calzature medievali mai esistite Gli errori più comuni hanno a che fare con il senso moderno del pudore niente braghette nel 500 o del 2000 e dello sfoggio quante scolature che mostrano seno e abbronzatura nel 400 moderno oppure la necessità di legare gli abiti ai colori delle contrade che causano sovente forzatura nella scelta dei tessuti e degli abbinamenti Poi vi sono delle comuni credenze nella forma delle vesti, nelle rifiniture, nella tipologia dei tessuti che derivano sostanzialmente dal mondo teatrale degli anni 50 e 60 e che fanno fatica ad essere eliminati dall'immaginario popolare e quella dei realizzatori che credono in questo modo di fare un medioevo o un rinascimento più vero del vero quando sarebbe tanto più semplice nella realizzazione più corretto da un punto di vista didattico più bello esteticamente a seguire la scelta della moda antica I commenti poi si sprecano in particolare sulla scelta delle dame e dei cavalieri che sono belli o brutti se il trucco e le acconciature stanno bene secondo dei canoni estetici del tutto moderni quindi non attenti all'adeguo all'ederenza storica tra abito e volto tanto che le dame sfogiono fin troppo spesso acconciature che starebbero bene in un servizio fotografico per riviste dispose ma proprio per niente in un affresco quattrocentesco per non parlare poi del trucco www.redigio.it e la storia continua www.redigio.it 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 www.redigio.it